Ciao, sono Ginevra Procaccini, ho 19 anni e vengo da Roma. Le mie origini sono Paduli, in provincia di Benevento, perché papà è nato lì, e Acquapendente, nel Lazio, perché mamma è nata lì. Ho tre fratelli, molto più grandi di me, infatti hanno già dei figli, e ho sei nipoti. Tre di questi abitano in Australia. E quando andiamo lì per organizzare tutto il viaggio, chiedono sempre a me, perché sono brava, almeno in questo, e infatti la definisco una cosa positiva del mio crattere. Mentre una cosa negativa è che cambio idea molto facilmente. Per esempio, devo uscire con le mie amiche, ogni volta che dobbiamo andare in discoteca, ballare, siamo super gasate, cinque minuti dopo io scrivo, no ragazze, non mi va, sono stanca, poi domani mi do svegliare presto, va bene, inizio a inventare una serie di scuse, ormai loro lo sanno e dicono, va bene, ok. Però ho anche delle cose positive, mi piace molto leggere, ascoltare la musica, giocare giochi da tavolo, dipingere, anche se non sono per niente brava. Mi piacciono gli animali, infatti ho due cani, Rudy e Spritz, e da piccolina volevo diventare biologa marina o stilista, infatti sto studiando per fare l'attrice. Ho praticato anche tanti sport, come basket per tre anni, hip hop per quattro, ma so ballare un po' tutti gli stili, ho provato anche pole dance, ma sembrava una salsiccia, quindi no, e anche pattinaggio sul ghiaccio per sette anni, e so rimanere a galla. So parlare italiano e inglese fluentemente, un pochino spagnolo, so suonare il flow traverso e so cantare. Poi, per non farmi mancare niente, ho fatto anche un sacco di lavori dai 17 ai 19 anni, come la cameriera, l'hostess, l'animatrice nei villaggi turistici, l'animatrice per feste private, la babysitter, diciamo un pochino di più con i bimbi, perché mi piace molto lavorare con loro. Però, chissà il prossimo mese che cosa farò. Grazie. 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 Grazie.